Scelta civica si prepara ad una svolta che inizierà il 6 maggio? Sì, scelta civica ovviamente dopo l'abbandono di Mario Mondi, cioè subito, sta cambiando pelle. Noi personalmente come parlamentari siamo stati tra i pochissimi che non abbiamo cambiato partito come spesse volte di moda negli ultimi anni in particolar modo. Quindi siamo stati eletti in scelta civica, attualmente stiamo ancora in scelta civica ma ovviamente non è più un progetto spendibile per il futuro perché era legata a una persona che ha deciso ovviamente di abbandonare e di farsi da parte sullo scenario politico attivo. Pertanto noi stiamo facendo parte della famiglia dell'Alde europea e quindi dei liberal democratici ci stiamo lanciando una convention per il 6 di maggio a Milano dove insieme ad altre persone, la fondazione Inaudi ad esempio, ad altre associazioni e ad altre personalità tutti quanti insieme creeremo l'Alde, la sezione dell'Alde in Italia. La manifestazione sarà intitolata Libera Italia. Quali saranno le ripercussioni a livello locale, a livello abruzzese e a livello terramano? A livello nazionale pensiamo che ci sia un ampio spazio politico di persone che non sono né socialisti né popolari. Ricordo che l'Alde in Europa è il terzo gruppo parlamentare, quindi a maggio quando faremo l'evento verrà anche il leader europeo Rui Verostat, quindi c'è spazio politico. Poi sarà noi essere in grado di saperlo comunicare e spiegarlo ai cittadini. Ovviamente per quanto riguarda poi a livello Italia molto conterà anche la nuova legge elettorale, quindi in base a quali saranno le regole per la nuova competizione elettorale, noi ci attrezzeremo ovviamente di conseguenze. Per quanto riguarda il livello regionale, io porto avanti un movimento civico appunto per valorizzare le energie della società civica. Resterà? Quello resterà sempre, sono due livelli diversi, due organizzazioni diverse. Io ho questa affinità, ho voluto lanciare questo progetto di Abruzzo Civico che è completamente sganciato ovviamente all'altro progetto. Dunque restano in piedi anche tutti gli accordi politici fatti a livello locale e territoriale? Beh, accordi politici strutturati non ce ne sono. Devo dire che anche in queste elezioni prossime che avremo, ad esempio a Tortoreto avremo un nostro candidato sindaco proprio di Abruzzo Civico, a Martinsicuro appoggeremo invece un candidato civico con la nostra lista di Abruzzo Civico che è un comune superiore ai 15.000 abitanti, quindi non c'è nessun accordo strutturato. Ci sono degli accordi specifici fatti con i singoli candidati anche su base programmatica e quelli noi li abbiamo sempre rispettati. Alcune volte, casomai, altri non li hanno rispettati.